Ciao a tutti, io mi chiamo Alessandro, vengo da Verona, ho ancora per una settimana 32 anni e sono qua perché alcuni mesi fa ho incontrato una persona che ci credete no, dopo 5 minuti mi ha detto ma tu devi venire all'Italia nella car camp, gli ho detto guarda sta per partire il mio autobus però lo perdo e ti dico di sì quindi questo è un po' il motivo per cui, da cui ho partito tutto diciamo, non il motivo io 9 anni fa ho avuto un incidente, facevo paracadutismo, l'ho fatto per 3 anni dopo 3 anni di attività che mi ha dato tante soddisfazioni è stata la mia passione un giorno qualcosa non ha funzionato, in realtà già da tempo qualcosa non funzionava e quel giorno è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso quindi ho avuto questo incidente fortunatamente sono sopravvissuto, sono ancora qua il problema che è rimasto risolto è quello legato alla vista perché io sono cieco, non ci vedo purtroppo parlo, però non ci vedo no a volte in realtà mi verrebbe a dire cazzo ma sensi che la vista non perdessi lo dito perché senti di quelle stronzate comunque niente, c'è stato questo incidente dopo 5 mesi di ospedale mi sono fatto rispedire a casa perché era il mio compleanno, l'8 agosto, mi sono fatto mandare a casa ed ho iniziato un po' a scoprire questa nuova vita perché durante i mesi di diligenza non avevo l'energia necessaria per affrontare una situazione del genere arrivato a casa, anche solamente il poter stare su una sedia respirare il vento fuori in giardino avere la compagnia solamente di persone amiche quali i tuoi familiari perché le infermine sono cattive sono cattivissime le infermine solo questo ti dà tanta carica e quindi riprendo a cercare di vivere questa nuova vita dalla base perché mi trovavo comunque in una condizione di mobilità abbastanza colpita ero zoppo, avevo perso 15 kg e quindi non ero molto in grado di muovermi autonomamente all'inizio oltre a questo la vista impari a fare un po' tutte le cose e nel giro di qualche mese tutto inizia a essere, non dico più chiaro, però più familiare ti avvicini alle cose che ti servono quindi dall'autonomia personale in senso stretto anche a quelle cose che ti permettono di comunicare perché a giorno d'oggi a molti piace comunicare quindi l'informatica, l'internet all'inizio quando ho perso la vista quando me ne sono reso conto ho detto, cazzo, come farò io a avere un lavoro che non posso più usare il computer non sapevo che anche un cieco potesse usare il computer in realtà si può tramite programmini molto non dico semplici, però comunque che svolgono un principio fondamentale abbastanza semplice tradurre tramite una voce sintetica ciò che sta scritto ciò che questo programma riesce a a detectare, a intercettare perché flash, un formato flash è completamente inaccessibile visto che si tratta di un'immagine e nient'altro ho scoperto quindi l'informatica il piacere dell'informatica paradossalmente rispetto a quando ci vedevo sono diventato più esperto ho iniziato a informarmi in maniera un po' più scientifica del funzionamento e di tutte le cose ho portato avanti per diversi anni la mia formazione in ambito informatico sia con computer mac che con live l'iphone, ora non storgite il naso attualmente è il sistema più accessibile, più facile per una persona che non ci vede anche android sta facendo ottimi passi in avanti è già a ottimi livelli per adesso almeno personalmente anche riguardo le mie esigenze l'iphone e il mac sono due strumenti più performanti lasciamo stare quanto siano chiusi però insomma per quello che devo fare io vanno benissimo poi però è successo una cosa dopo un anno circa dal mio incidente ho avuto la fortuna, l'opportunità di partecipare a un seminario riguardante le facoltà del cervello dove mi è stato un po' spiegato a livello molto basico almeno per quanto io possa aver compreso il funzionamento del cervello uno dei principi più interessanti che io ho trovato è riguardo al pensiero la capacità del nostro cervello di condizionare ciò che ci circonda il nostro pensiero influenza la realtà che sta attorno a noi in questo caso si affronta il pensiero positivo perché chi è che vuole farsi del male? se tu lo sai pensi al male ti fai del male una volta che lo sai non c'è neanche più da discuterne a meno che tu non sia un masochista quindi il pensiero positivo ho iniziato ad applicarlo all'inizio per gioco ma nel giro di poche settimane mi sono appunto che non era un gioco e basta era la realtà e quindi dopo circa due anni mi è venuta questa idea e nel 2013 sono partito per un progetto fare il giro del mondo per testimoniare che se ci si crede se si ha fiducia si possono trovare persone buone dappertutto al di là della cultura del paese della lingua della razza del colore della pelle sono partito quindi il 2 aprile del 2013 da casa mia e in circa due anni e mezzo due anni e quattro mesi ho attraversato 90 paesi ero già cieco e come dicono alcuni giornali anzi se qualcuno è capace è strappata via tutte queste notizie perché io non ho un cane guida non ho fatto il viaggio col cane guida è da è da 5 anni che sento i giornali che dicono che sto girando con un cane guida non esiste comunque ho fatto questo viaggio è andato molto bene ho incontrato migliaia di persone con la vita con la vita perché mi trovavo allora ho fatto prima l'Africa le due coste l'Atlantica e l'Indiana poi ho fatto il sud dell'Asia ho tutte le isole che ci sono tra Singapore e l'Australia e il Pacifico e ho arrivato a Capodanno alle Solomon occidentali ho avuto un'esperienza particolare con un ragazzo polacco che subito voleva portarmi a spassare per le isole e dopo invece ho scoperto che sarei stato io lo spasso e quindi avevano soprannominato in una lingua locale delle Solomon non ricordo il nome però significa il cieco che corre veloce il cieco che corre veloce tipo toro seduto no io ero il cieco che corre veloce no a parte questo in due anni e quattro mesi girare 90 pesi in tutto il mondo tra Africa Asia in tutti i posti si fanno delle esperienze incredibili e confermare ogni giorno che l'assunto iniziale ovvero se ci si credessimo veramente tutti fratelli è stato grazie a tutti i soldi